Siamo di nuovo in diretta pronti per cominciare una nuova puntata di Primo Cittadino. Do subito il benvenuto al sindaco di Colle al Metauro, Pietro Briganti. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a lei Simone, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Vi ricordo i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33. Potete inviarci un messaggio, meglio se con Whatsapp, al 338 49 68 250. Sindaco, ormai è passato qualche mese dalla sua elezione. Come sta andando e su che cosa vi state concentrando? Diciamo che sono passati un po' di mesi. In una prima fase c'è stato un impegno assoluto all'ascolto totale e pieno, quotidiano, da mattina e sera, per quelle che erano le richieste di cittadini, associazioni, imprenditori. E' da qualche mese, ormai da gennaio, che ci siamo concentrati anche sull'operatività del Comune, riducendo la disponibilità delle ore di ascolto ai cittadini. Ci stiamo concentrando su tante cose, soprattutto sul PNRR, che quasi mensilmente escono dei bandi da poter intercettare per poter realizzare delle opere per la nostra collettività. Ecco, e poi andremo anche nel dettaglio, perché sono davvero tanti gli interventi. Passiamo un attimo alla pagina dei profughi. Tanta solidarietà anche da tutta la comunità di Colli al Metauro. Nella piazza del Metauro appunto si è svolta anche una manifestazione. Ricordiamo anche, come sempre facciamo con i vari sindaci, l'importanza di segnalare tempestivamente l'arrivo di Ucraini. Assolutamente sì, tanta solidarietà. Nel nostro Comune ci sono residenti 22 ucraini, ai quali abbiamo contattato immediatamente, subito dopo l'inizio dell'evento bellico, proprio per cercare di capire con loro quante persone sarebbero potute arrivare al nostro territorio. Siamo costantemente in contatto con la Prefettura per raccogliere queste persone. E ad oggi abbiamo 19 profughi che risiedono più che altro in case, in abitazioni di carattere privato. E da qui ci siamo anche attivati con la diocese, quindi attraverso la Caritas, per cercare di trovare delle soluzioni che possono dare ristoro a chi ospita questi profughi, oltre logicamente a quelle che sono le strade più istituzionali, come i CAS che mettono a disposizione la Prefettura, che sono delle unità abitative proprio dedicate eventualmente ai profughi. Dovremmo avere anche una bella immagine, mi pare, del Comune, proprio colorata, insomma, dove sono stati proiettati i colori, simbolo della bandiera ucraina. Eccolo qua, il Comune, sì. Sì, in occasione, mi piace dirlo, in occasione di questo evento che abbiamo fatto, mi è piaciuta molto la presenza dei bimbi, dei ragazzi, perché sono già più grandi delle scuole, ognuno dei quali ha scritto un proprio pensiero in favore della pace contro la guerra. È stato veramente un momento emozionante. Direi di cominciare con i messaggi. Allora, intanto le chiedono, ci sono aggiornamenti sulla rotatoria tra Via Flaminia e Via Dei Laghi? No, tra Via Flaminia e Via Dei Laghi non è prevista al momento nessun tipo di rotatoria e di conseguenza non ci sono novità in merito a questa richiesta. Ricordo intanto ai telespettatori che se ci inviate degli audio tramite WhatsApp non possiamo farli sentire in diretta, quindi scriveteci un messaggio. Un'altra segnalazione. Tavernelle, le foto che ho inviato, ci ha scritto un reporter di strada, parlano da sole questo disagio, esiste da più di un anno, le persone, i ragazzi, le famiglie abituate ad usufruire di questo passaggio, ecco adesso vediamo un attimo le foto per far capire bene anche a casa, diciamo che queste persone sono costrette a percorrere il tratto sul ciglio della strada in curva e pericolosa. È una situazione molto grave, persiste da tanto tempo, Sindaco? È meno di un anno, non è un anno, comunque sono diversi mesi che era giugno, giugno, luglio dell'anno scorso nella quale abbiamo emesso l'ordinanza di chiusura del ponte, ma perché questo ponte è un ponte pericoloso per il fatto che si pensava che fosse un semplice problema di un asse che fosse rovinato, in realtà quando siamo andati a ispezionare il ponte ci siamo resi conto che pur se è un ponte che è stato realizzato nel 2004, quindi ha solo, tra virgolette, 17 anni di vita, in realtà è un ponte completamente ammalorato e abbiamo fatto intervenire dei tecnici che hanno fatto una valutazione che questo ponte non si può rimettere a posto, quindi non è... Quindi va proprio abbattuto? Va proprio abbattuto e il progetto di massima di studi di fattibilità tecnico-economica che abbiamo con la previsione di realizzazione di un ponte completamente in acciaio, quindi con una struttura che avrà una lunga vita, si parla intorno a poco meno di 300.000 euro. Ed è per questo che abbiamo cercato, stiamo cercando di partecipare, anzi abbiamo aderito ad un bando che è scaduto poco il termine per poterlo presentare poco tempo fa, che è il bando, la legge 145,139 in base al quale chiediamo di essere finanziati completamente per la realizzazione di quest'opera. Non solo, stiamo cercando un ulteriore canale per ottenere dei contributi per realizzarlo, qualora non ci fosse la possibilità di accedere a dei contributi finanziari statali o regionali provvederemo con risorse del comune a realizzare l'opera perché riteniamo che sia molto importante per la sicurezza dei pedoni poter usufruire di quel passaggio pedonale. Ma non esiste una sorta di garanzia o delle penali verso la ditta che ha costruito questo ponte? Insomma 16 anni sono veramente pochi? In realtà sono pochi, però per quelli che sono gli impegni, gli obblighi di una ditta i tempi, come sappiamo, sono molto più brevi rispetto ai 14 anni. Comunque sia, è vero che c'è questo disagio, ma è anche vero che era giusto, proprio per non creare eventuali problemi, chiudere questo ponte. E ci siamo attivati immediatamente, capisco che ci sia necessità di poterlo utilizzare, ma la somma così ingente, importante, che è una somma più che altro per fare un ponte funzionale, non tanto a livello meramente estetico, richiede anche la possibilità di poter intercettare dei fondi prima di poterlo realizzare. Dovremmo avere una persona che vuole parlare con lei in diretta. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta? Ascolto, io abito in corso a Matteotti, volevo segnalare a due cose, quindi nel centro storico di Santara, sicuro mi conosce il sindaco, abito di fronte alla farmacia. Volevo segnalare il degrado del nostro vecchio cimitero. Sentiamo poco, chiede del vecchio cimitero? Volevo segnalare il degrado del nostro vecchio cimitero, non so se mi senti te. C'era anche un'altra richiesta? Sì, il problema del traffico, l'incorso a Matteotti. Ha sentito le sindaco, io non ho capito. Sì, penso di aver capito. Il cimitero e poi l'altra richiesta? Il corso a Matteotti. Ok, grazie per questa segnalazione, aggiungo un messaggio, volevo sapere perché il cimitero di Saltara è in uno stato pietoso. Anche qui, insomma, andiamo a calcinarci. Qui, per quanto riguarda iniziamo dal cimitero di Saltara, il cimitero di Saltara è in uno stato pietoso. Ci sono dei lavori in corso, lavori in corso che perdurano da diverso tempo. Tra l'altro la ditta avrebbe dovuto consegnare il cantiere, quindi terminare ultimare i lavori, nel novembre scorso. Non l'ha fatto e da quella data è stata messa in penale, è stata arrivata una penale che giornalmente, per ogni giorno di ritardo, devono corrispondere una certa somma al comune. Dopo questa penale, il raggiungimento di un determinato tetto di questa penale pare al 10% dei lavori e questo importo è stato raggiunto nel febbraio di quest'anno, il comune ha la possibilità di rescindere il contratto con questa impresa, incamerare tutta quella che è la penale che è stata accantonata, scutendo anche magari le fedevisioni, fatto salvo anche tutti gli eventuali ulteriori danni da rivendicare nei confronti della ditta. Andremo verso la risoluzione contrattuale nei confronti di questa impresa e anche se ciò mi dispiace, avrei preferito che avesse potuto completare i lavori, ma non tanto e non solo perché dovremo nuovamente rescindere un contratto con un'impresa, quanto la situazione attuale è contingente, ma non è riferito solo a quel cantiere, è solo al nostro comune, ma è diffuso un po' tutto sul territorio, fa sì che chi abbia vinto dei bandi, gli appalti diversi mesi fa, si ritrovi oggi nelle condizioni di fare difficoltà a portare avanti questi lavori per un incremento dei costi della materia prima, perché la materia prima non si trova. Guardi, faccio anche un altro esempio, abbiamo fatto il bando per gli asfalti, come facciamo tutti gli anni, ormai abbiamo investito più di 1.700.000 euro per il rifacimento del manto stradale ed è andato deserto, ma come da noi è andato deserto anche da altre parti. Quindi è una situazione un po' generale. È una situazione generale, è una situazione di difficoltà che speriamo, e anzi su questo il Governo è intervenuto circa una decina di giorni fa con l'emissione di un decreto, che darà la possibilità nei nuovi bandi di poter inserire una clausola, di poter adeguare i prezzi anche in funzione dell'andamento di quello che è il mercato, anche perché è stato rivisto recentemente il preziario regionale e già i prezzi sono oltre questo prezziario regionale. A proposito di asfalti, abbiamo due messaggi per lei. Buonasera, volevo chiedere al Sindaco quale soluzione prenderete per via a caduti della libertà a Calcinelli? Le auto la percorrono ad alta velocità, molto sostenuta, addirittura qualcuno sorpassa. Forse è il caso di mettere dei dissuasori importanti o addirittura a telecamere per sanzionare i trasgressori e poi le chiedono anche l'asfaltatura. Via Ponte Metauro a Calcinelli, quando verrà asfaltata è una situazione invivibile, soprattutto al passaggio dei camion? Per quanto riguarda via Ponte Metauro, lì è stata realizzata e si sta continuando a realizzare una grande opera che è stata la realizzazione della rotatoria dall'uscita della superstrada, la realizzazione di marciapiedi che vanno oltre il ponte sottopasso della superstrada fino al centro di Calcinelli, quindi fino al semaforo di Calcinelli, e il rifacimento anche di tutta l'illuminazione pubblica che da aerea è diventata con scavi sotterranei e manca solo ed effettivamente l'asfaltatura. L'asfalto non si poteva realizzare fino a quando non avessimo terminato di realizzare i marciapiedi che sono stati terminati proprio recentemente. Nel periodo invernale si sa che non si possono asfaltare strade. Tra l'altro non sarà una semplice asfaltatura, quindi non si verrà rifatto solo il manto superficiale, ma si interverrà in profondità proprio per cercare di dare maggior resistenza a questa strada che è percorsa anche da mezzi pesanti e molto trafficata. Con l'intervento e l'ausilio dei marchi multiservizi della provincia verrà realizzata questa opera, sicuramente in primavera, tra l'altro domattina sarò proprio a un appuntamento con l'amministratore delegato dei marchi multiservizi proprio per vedere questo tipo di intervento e altri interventi che sono previsti sul nostro territorio. Via Trieste e via Veneto a senso unico è possibile? Allora, ci stiamo ragionando. Proprio adesso, in questo periodo, si sta lavorando, ci sono un pool di tecnici che sta lavorando sulla realizzazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Cogliel-Metauro. A proposito, le chiedono via l'Italia a Tavernelle quando diventerà una zona residenziale, adesso risulta come zona in costruzione. Andiamo per gradi, quindi c'è questa realizzazione di questo piano regolatore, ci siamo visti recentemente, circa un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, con questo pool di tecnici che hanno realizzato la prima opera di creare e ricostruire tutti quelli che erano i tre piani differenti regolatori dei tre comuni. In questa circostanza ho avanzato la proposta, l'idea che è stata appoggiata da questi tecnici di intervenire come comune dando un affidamento, un incarico a un cosiddetto ingegnere trasportista nel senso che possa valutare quelli che sono i traffici nel nostro comune anche per far sì che si possa avere un orientamento verso la realizzazione di sensi unici che diano la possibilità di realizzare quello che è stato da sempre, anche in Campania Naturale, il nostro punto fermo, ovvero la realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile, quindi percorsi o di marciapiedi o percorsi ciclopedonali, che vista la conformazione di quelle che sono le strade e la realizzazione di abitazioni a ridosso proprio delle strade, è possibile da noi solo attraverso l'istituzione di quelli che possono essere dei sensi unici. Quindi ci vedremo a breve per cercare di identificare una persona al quale dare questo tipo di incarico proprio per cercare di sviluppare il più possibile una viabilità differente e più che altro fruibile dal punto di vista, in sicurezza, dal punto di vista dei pedoni e di chi vuole andare in bicicletta. Invece Via L'Italia? Via L'Italia, lì c'è un problema ben più serio, nel senso che in quell'area, in quel quartiere, chi ha un tempo dietro realizzato l'opera di quella lottizzazione, in realtà non è un'azienda che non è più operativa, diciamo così. Di conseguenza ha lasciato una serie di opere incompiute e prima di poterle fare proprio del comune, queste opere dovrebbero essere terminate e realizzate. Di conseguenza cercheremo di capire, come già più volte siamo stati anche a fare dei sopraluoghi in quest'area, cercare di capire come poter risolvere questa problematica perché di fatto tutta l'area, anche l'illuminazione, è di fatto privata e non pubblica perché queste opere non sono a norma da partire ad essere cedute al comune, diciamo così. Siccome ci chiedono informazioni sulla raccolta porta a porta, vorrei farle vedere prima delle foto che ci sono arrivate. Dunque, ci segnalano il degrado e i rifiuti abbandonati nell'imbocco della superstrada per Fano. Si parla tanto di territorio e di natura, ci hanno scritto, ma poi abbiamo delle zone a poco più di 500 metri dalla piazza dei Calcinelli che versano in queste condizioni. Dicevamo appunto per il porta a porta, visto anche questo grado di inciviltà. Beh, infatti prima mi faccia dire che al di là dei 500 metri dalla piazza di Calcinelli o le porte di qualsiasi posto, questo è un gran segno di inciviltà che va denunciato e condannato. Poi tutti dobbiamo sapere che noi procediamo a pulire o chiediamo anche ad Aset eventualmente di pulire, ma queste sono pulizie straordinarie che poi ricadono nelle tasche di noi tutti i cittadini e quindi quando vediamo situazioni di questo tipo, chi abbandona rifiuti dovremmo avere il coraggio anche di denunciare queste situazioni perché noi saremo sempre primi a renderci disponibili a intercettarli anche attraverso l'utilizzo degli ispettori ecologici che sono presenti sul nostro territorio, salvo poi quando intervengono spesso ci chiamano per lamentarsi perché sono fiscali. Quindi mai le mezze misure, da una parte si vuole il decoro e la pulizia, dall'altra però quando interveniamo con un pugno forte c'è chi si lamenta. Per quanto riguarda invece la raccolta a porta a porta, è di questi giorni la redazione che abbiamo richiesto all'Aset di un progetto proprio per sviluppare il porta a porta su tutto il nostro comune, fatta cessione per le aree cosiddette disperse dove si pensa di realizzare delle isole ecologiche intelligenti attraverso quindi dei sistemi di riconoscimento con una tesserina, con una tessera, con il refeed e per il quale tra l'altro Aset sta partecipando, anzi è partecipato perché è scaduto il termine il 16 marzo, all'intercettare dei fondi del PNRR proprio per la realizzazione di queste isole ecologiche. Dovremmo verificare quello che sarà l'impatto sulla tariffa eventualmente a carico dei cittadini di questa introduzione, di questo porta a porta a spinto, pensando e riflettendo anche sul fatto che comunque nonostante ciò gli incivili continueranno. È vero che togliendo quelle che sono le isole ecologiche dove attualmente viene rilasciato qualsiasi tipo di rifiuto, pur se tra l'altro nel nostro territorio abbiamo anche una struttura per il conferimento di quelli che sono i rifiuti però vedremo purtroppo che verranno lasciati chi ha questo vizio di lasciare i rifiuti ovunque non sarà certo questo tipo di adozione, di questo tipo di raccolta che farà cambiare le loro abitudini. Quindi più educazione da parte di tutti noi ci impegneremo al massimo per cercare di dare un sistema di raccolta che si presti il meno possibile a lasciare i rifiuti intorno ai cassonetti. Ritorniamo un attimo a Via Caduti della Libertà Calcinelli se appunto è possibile fare qualcosa con dei dissuosori o telecamere. Via Caduti della Libertà già ci sono dei dissuosori vedremo di far sì che la nostra polizia locale possa presidiare quell'area proprio per cercare di verificare se queste cose che sono state segnalate hanno una frequenza, sicuramente una veridicità altrimenti il nostro concittadino non l'avrebbe chiamato e quindi ci prenderemo questa segnalazione per verificare. Ci stanno arrivando decine di messaggi cercheremo di leggerne il più possibile però vorrei parlare un attimo con lei del piano di opere pubbliche visto che comunque riguardano tutti i cittadini tanti gli interventi previsti anche per le scuole. Non so, diciamo, partiamo dai lavori di ristrutturazione della scuola dell'infanzia Rodari. Sì, la scuola dell'infanzia Rodari per la quale abbiamo ottenuto un contributo di circa 615 mila euro quindi finanziamento da parte del Ministero ed è quel contributo, quella misura alla quale ci siamo rivolti ora per ottenere dei finanziamenti per la realizzazione del ponte di cui parlavamo prima a Tavernelle e anche della scuola Marconi di Montemaggiore la scuola media. Questa scuola Rodari è una scuola che sismicamente ha degli ottimi livelli di performance perché è una scuola che già consegue il miglioramento sismico ma è una struttura prefabbricata che sta diventando ammalorandosi e di conseguenza interverremo per migliorare tutta la struttura e migliorarla anche internamente attraverso una riqualificazione di tipo energetico. Su questo abbiamo già ottenuto il finanziamento per poter partire quindi a breve partiremo con un bando per la realizzazione di questa scuola. La palestra Cianca Merla abbiamo ricevuto in maniera definitiva una settimana fa dal Ministero in quanto ci hanno stati dei ricorsi da parte che era stato escluso da questo bando la certezza di aver ottenuto 700 mila euro di finanziamento oltre a una quota di circa 150 mila euro dal GSE per la riqualificazione energetica per la ristrutturazione e riqualificazione totale di questa palestra che è la palestra Cianca Merla che tra l'altro diventerà un edificio strategico di livello 4 ovvero di accoglienza in caso di calamità naturale dei cittadini di Coglialmetauro e in particolare della Municipalità di Calcinelli che attualmente non c'era questo tipo di struttura in quella ex-municipalità. Altro obiettivo è la costruzione di un nido a Tavernelle. Sì, abbiamo partecipato al bando del PNRR del nido perché c'è una carenza di posti a livello nazionale ma anche a livello locale c'è una forte esigenza da parte delle famiglie di avere dei nidi e di conseguenza abbiamo pensato che quello potesse essere una delle priorità da cercare di perseguire. Confidiamo anche nella possibilità che possa essere finanziato visto l'elevato importo che viene stato messo a disposizione da questo bando PNRR circa 2 miliardi e 400 milioni di euro. Invece lo stadio di Calcinelli? Lo stadio di Calcinelli? Per lo stadio di Calcinelli cerchiamo di aderire a diversi bandi. Non da ultimo il PNRR quello del PNRR che è uscito la scorsa settimana che scade tra l'altro è una manifestazione di interesse non è un vero e proprio bando che scade adesso il 22 di aprile dove cercheremo di riqualificare se è possibile quell'area ma dobbiamo ancora prima fare delle FAQ perché non è ben chiaro come ci si possa muovere all'interno di questa misura. Allo stesso tempo cercheremo di partecipare anche ad altre misure come il bando per la rigenerazione urbana insieme al Comune di Cartuceto e di Monbaroccio proprio per creare un percorso di mobilità sostenibile che colleghi i tre comuni e al contempo che dia la possibilità di usufruire di spazi sportivi nei tre comuni ai nostri cittadini. A proposito di mobilità sostenibile le chiedono se visto che è stata deliberata la realizzazione della pista ciclabile da Fano fino a Lucrezia come viene realizzata fino a Calcinelli e poi si chiede anche della ferrovia ma lì è già stato detto che il progetto per il momento non è fattibile. In realtà noi abbiamo dato risposta alla Regione sul fatto che siamo favorevoli alla realizzazione di questa pista ciclopedonale è che recentemente abbiamo avuto un incontro in Regione nella quale ci hanno fornito l'informazione che rispetto al tracciato che avevamo ipotizzato precedentemente che era molto più vicino ai binari ci dovessimo allontanare. Di conseguenza abbiamo ridefinito questo percorso abbiamo inviato queste note alla Regione e c'è la volontà della Regione di partire a stralci proprio per evitare che ci possano essere problemi in qualche comune rispetto ad altri e quindi si partirà per stralci e il nostro comunque abbiamo dato l'adesione rientra tra il progetto di realizzazione e questa pista ciclopedonale che al momento dovrebbe arrivare fino alle porte anzi fino al centro di Fossombrone. La scuola Dezzi quando sarà pronta? Per la scuola Dezzi è una di quelle scuole che per le quali le dicevo prima uno di quei cantieri per i quali abbiamo dovuto rescindere il contratto con l'impresa che operava su quel cantiere abbiamo ottenuto quello che è dalla Direzione dei Lavori il risultato di capire quali opere fossero state realizzate rispetto a quelle che fossero ancora da realizzare ci saranno da mettere dei fondi da parte del Comune al momento i giudici ci stanno dando ragione su tutta la linea quindi hanno fatto sì che non dovessimo riconoscere una somma pari a 90.000 euro all'impresa che non venisse riconsigliato il cantiere all'impresa stessa e faremo di tutto per far sì che questi maggiori oneri a carico del Comune dovuti al fatto che quando abbiamo fatto il bando c'è stato un ribasso circa del 42% oggi diventa impossibile anzi improponibile un ribasso del genere proprio per gli aumenti che abbiamo detto prima e quindi cercare di capire se questo maggior valore possiamo imputarlo e addebitarlo alla ditta che ha abbandonato di fatto il cantiere a breve tra non molto stiamo aspettando che diventi legge un decreto del Ministero che prevede la possibilità di inserire all'interno dei nuovi bandi quindi dei nuovi appalti la possibilità di adeguare i prezzi quali ci sia come sta verificando in questo momento un innalzamento importante di prezzi stessi perché si sta verificando su molti comuni del nostro territorio ma non solo il fatto che molte imprese non riescono più ad andare avanti con i lavori e di conseguenza stoppino il loro operato e si è costretti a riscindere i contratti e non andare avanti con le opere In via Canaletta Montemaggiore abbiamo dei problemi sulla numerazione dei numeri civici segnalato già più volte al Comune ma senza risposta che dobbiamo rivolgerci le chiedono? Non lo so non so qual è il problema è la prima volta che lo sento me lo segno e poi magari se saranno più espliciti sul tipo di problematica cercheremo di risolverlo Abbiamo tantissimi messaggi però ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità tra poco Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Coglie al Metauro partiamo dai bandi del GAL quali sono i progetti? I progetti sono già stati oggetto di bando e quindi sono stati già aggiudicati sono due misure differenti una per la riqualificazione di quelli che sono i lavatoi di Pozzuolo Serrungarina e Saltara e ai quali si aggiunge anche la riqualificazione dell'ex mattatoio di Serrungarina l'altra misura è una riqualificazione di un'area di Montemaggiore e non solo anche la zona della Pineta di Montemaggiore e con anche la realizzazione di percorsi multimodali che partendo da Montemaggiore raggiungeranno Saltara si prevede anche una sosta camper quindi un parcheggio camper nell'area nel parcheggio intitolato a Cappellini Armes Cappellini e da lì poi partirà un percorso e da di fianco la chiesa della Villa di Saltara un ulteriore verrà riscoperto un vecchio sentiero che raggiungerà il Museo del Balì e la Villa del Balì bello torniamo un attimo a Montemaggiore quando verrà sistemato l'acquedotto le chiedono? l'acquedotto quando sarà sistemato di preciso proprio uno degli argomenti in questo momento non ve lo so dire perché è proprio uno degli argomenti oggetto di incontro domani con l'amministratore delegato di Marcellina con tutti i servizi ci hanno inviato una fotografia per dirci questo è il cancello del nido di Postavecchia purtroppo in presa diretta non riusciamo a farvela vedere sono quattro anni che è così abbiamo segnalato la cosa abbiamo anche segnalato la necessità di mettere una rete di separazione tra l'accesso mezzi e il giardino del nido e aggiunge abbiamo suggerito anche di installare un dispositivo di aerazione meccanica nel nido quindi attingendo ai fonti regionali nota la segnalazione ok dicono che è già stato segnalato appunto più volte come riferito anche prima quindi se è possibile sistemare quantomeno il cancello dunque la via Sandro Rupoli quando verrà modificata specialmente l'incrocio per Rocciano per quanto riguarda via Sandro Rupoli noi abbiamo richiesto un finanziamento per la progettazione della riqualificazione di tutta via Borghetto che è proprio quella che insiste nell'area che ci è stata indicata in questo momento e crediamo e pensiamo di poter realizzare l'opera grazie anche all'intervento dei privati dovremmo avere una persona al telefono buonasera buonasera chiamo da San Lorenzo in campo prego allora si parla in questi giorni molto sulla stampa ma anche in altri servizi di informazione del potenziamento delle ferrovie in modo particolare si parla dell'arriotramento della ferrovia che in questo caso pare che intiressi la città di Pesaro andando verso sud verso Foggia Bari quindi il problema al tempo stesso la possibilità che i treni danno alla cittadinanza è una cosa da considerare ai massimi livelli voi nella valle del Metauro avete sempre questo problema del treno Fano Fossombrone quindi io chiedo di non perdere questa possibilità della riattivazione anche nell'ambito di un utilizzo come treno metropolitale di superficie questo anche nell'ambito di un collegamento Fano Fossombrone Fabriano e poi Roma c'era proprio oggi sul giornale che gli urbinati vogliono la riattivazione di questo collegamento automobilistico con Pullman per andare a Roma ma c'è una linea un po' disturbata comunque abbiamo sentito questa tratta Fano Urbino poi l'arretramento della ferrovia riguarda più Pesaro esatto Fossossiore per quanto riguarda la ferrovia come sapete noi abbiamo espresso in realtà un parere al momento se dovesse essere realizzata così come se ne parla come se ne parlava è contrario perché creerebbe un grosso disagio per la nostra collettività e per la nostra comunità al momento non è stato ancora svelato l'esito dello studio di fattibilità tecnico-economica per il quale RFI lo Stato ha investito più di un milione di euro e sono scelte che non dipendono da noi ma noi eventualmente ci opporremo se queste dovessero arriccare danno e pregiudizio al nostro territorio ma sono scelte che dipendono dal governo centrale è prevista una rotatoria nei pressi del Famila? ci sarebbe lì c'è noi abbiamo inserito nel piano delle opere trennali in via Furlo una rotatoria per far sì che si possa servire anche la zona delle scuole in località a Beato Sante da molto tempo c'è stata promessa l'illuminazione pubblica dicono ma ad oggi nulla è stato realizzato lei lo farà? mi prendo questo appunto tra l'altro noi abbiamo investito molto anche nella riqualificazione dell'illuminazione pubblica energetica con delle misure che di anno in anno adottiamo ogni anno circa almeno 90.000 euro vengono utilizzati per la riqualificazione energetica l'installazione di linee pubbliche di illuminazione pubblica dove non ci sono mi prendo questo appunto lo imparo anche questo oggi questo tipo di esigenza di questo territorio e vediamo cosa possiamo fare con i soldi che ogni anno riceviamo proprio per la realizzazione di queste opere mi dicono di rispondere per quanto riguarda il traffico su Corso Matteotti non abbiamo dato la risposta prima sin ah giusto era la signora Luana tra l'altro credo che ha riconosciuto forse la voce il traffico sul Corso Matteotti è una zona abbastanza sicuramente trafficata per il fatto che congiunge questo tipo di viabilità anche verso Cartoceto e verso Monbaroccio e sicuramente si può fare attenzione a quello che possono essere l'intensità del traffico e più che altro ci dovremo prendere cura di quella che è la velocità credo che di solito la signora la nostra concittadina Luana si lamenta del fatto che ci sono alte velocità che vengono percorse all'interno della piazza e cercheremo di risolvere il problema come? eventualmente mettendo dei dossi ma poi i dossi all'interno di un centro abitato non è bene metterli Cultura allora due domande le chiedono informazioni sul tetto del cinema in centro a Calcinelli e poi l'opera d'arte Mascarucci che fine farà parliamo dal teatro allora per quanto riguarda il teatro il cinema l'ex cinema lì si stanno occupando i nostri i nostri uffici e anche credo che ci sia stata una relazione è stata richiesta una relazione proprio per la situazione di questa di questa struttura che già c'è lì da diverso tempo dove i proprietari sono diversi e non sono riusciti a fare una riqualificazione di questa di questa opera e la seconda domanda ritorno indietro allora qual era regia mi aiutate una quella del teatro perché poi andiamo avanti a leggere anche gli altri messaggi l'opera d'arte Mascarucci onestamente mi cogli impreparato non lo so e mi informerò Buonasera Sindaco volevo chiedere se pensate di fare una rotatoria anche all'uscita della superstrada venendo da Fossombrone perché alla mattina negli orari di punta è veramente un disagio in realtà la possibilità di fare delle rotatorie non dipende da noi anche se ritengo che lì possa essere agevole una rotatoria non tanto per chi esce dalla superstrada quanto per chi deve mettersi in una superstrada ma dipende da ANAS stiamo ragionando e pensando anche eventualmente chiudendo la via salvadorellende che dà proprio su quella intersezione di cercare di capire se si può attraverso una rotatoria nel traffico sempre che poi l'ANAS ci dia la possibilità di farlo ma siamo allo studio al vaglio di questa ipotesi conosce la situazione caotica al centro di Saltara diurno all'uscita dei ragazzi delle scuole a volte in diretto dobbiamo un po' cercare di interpretare i messaggi che ci arrivano beh la situazione caotica è determinata dal fatto che da qualche anno essendo chiusa la scuola Dezzi della quale parlavamo prima proprio perché il cantiere è stato sospeso non c'è più la possibilità dei mezzi dei pulmini quindi degli scuolabus di poter accedere in quell'area e di conseguenza parcheggiano per un periodo di tempo limitato intorno ai 20 minuti sicuramente creando disagio ma è l'unico posto dove questi mezzi si possono fermare per consentire ai ragazzi di poter salire sugli autobus e poter tornare a casa abbiamo ancora pochi minuti direi di parlare anche di qualche evento prima però l'applicazione l'app MyCogli al Metauro importante per tutti i cittadini anche per tenersi informati assolutamente assolutamente è un'app che sta trovando grande gradimento da parte dei cittadini invito tutti a scaricarla e a utilizzarla anche perché andrà a sostituire quello che è il numero di Whatsapp attuale è molto più facile e immediata da poter utilizzare sicuramente consente anche di avere una miriade di informazioni aggiuntive rispetto a quelle precedenti ed ha anche la possibilità di scrivere delle segnalazioni che verranno poi prese in carico dagli uffici comunali quindi scaricate questa app che è veramente molto interessante anche perché può essere ampliata con una serie di informazioni di qualsiasi tipo anche per offerte o ricerca di lavoro o quant'altro con lo sviluppo futuro Edenti intanto la fiera a maggio si svolgerà? Sì finalmente proveremo dopo anni dovuti al Covid a riprendere quelle che erano le iniziative sul nostro territorio ripartiremo con la fiera di Santa Croce che si terrà l'8 maggio e la fiera di San Cipriano a Tavernelle che si terrà il 2 giugno quella di Santa Croce si terrà a Calcinelli abbiamo Bormosia di voler riniziare ad avere una vita normale e quindi poter riuscire poter far sì che i cittadini possano frequentare le nostre strade iniziando già da questa domenica E abbiamo anche la locandina di questo festival di primavera che verrà presentato domani mattina eccolo qua Effettivamente Calcinelli in particolare la frazione di Calcinelli da sempre nel passato si svolgeva questo tipo di evento che richiamava tantissime persone e quest'anno con anche l'impegno di quelle che sono i commercianti insieme al grande contributo della Proloco di Saltara e alla volontà di appoggiare questo evento da parte del Comune per far sì che possa ripartire possa riprendere e che dal prossimo anno possano iniziare a poter riorganizzare e camminare con le proprie gambe queste associazioni per realizzare questo questo che veramente era un evento di cui si sente la necessità anche perché è uno dei primi eventi che ci sono sul territorio nel periodo primaverile post primaverile è vero che adesso ieri sabato ero nella zona di Colania stava nevicando quindi però in realtà dovrebbero alzarsi anche le temperature e sicuramente quest'anno è un evento che copre quasi l'intera giornata ed è rivolto veramente a tutti soprattutto ai bimbi c'è veramente grande 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 presenza di insomma di artisti di un certo calibro esatto quindi ospiti d'eccezione comici che arrivano direttamente da Zeglia ma poi nel corso del telegiornale i prossimi giorni vi daremo tutti i dettagli e poi il trekking ieri c'è stato il primo appuntamento tra cappelli e cappella e cappellai e cappellai sì c'è stato questo primo appuntamento ieri che poi si concludeva in questa mostra alla chiesa della fonte dove c'erano perché Saltara l'ex municipale di Saltara deve sapere che era famosa per la presenza di cappellai e quindi sono stati messi a disposizione in particolare dai fratelli vitali delle opere veramente opere artistiche perché veramente mi piace definirle tali a disposizione di chi volesse vedere questo tipo di mostra poi le settimane successive ci saranno altre camminate e dalla locandina poi potete evidenziarle insomma tanti appuntamenti quindi come diceva lei prima si ritorna un po' alla normalità io me lo auguro fortemente perché c'è proprio si avverte questa esigenza questa necessità di tornare al contatto il contatto fisico il contatto personale quindi a uscire a vivere la comunità a vivere le amicizie come si faceva un tempo anche se non sarà semplice perché ci siamo tutti un po' impigriti e c'è un po' di resistenza a tornare alla vita normale quindi benvengano questi eventi che sicuramente agevolano la possibilità di uscire ai nostri concittadini e incontrarsi e scambiarsi le parole e farci un bel sorriso che sicuramente fa bene a tutto Sindaco grazie per essere stato con noi no io vi ringrazio per avermi ospitato mi è fatto molto piacere grazie grazie anche a tutti i telespettatori che ci hanno inviato i messaggi mi scuso con tutte le persone che ci hanno scritto purtroppo non siamo riusciti a leggere le loro richieste grazie a tutti anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra e buona serata grazie a tutti grazie a tutti